Forte Maliziosa Maestosa Maliata Metafísica Metafísica E metà zoccola Comunque Una donna Un personaggio assolutamente brechettiano Sbagliato Si dice Bresciano Bergamasco Brechettiano Da Bertolt Brecht Bú Cos'è? Cos'è? Chino Beh scusate Nella sala delle sbaglie Della Medova Bepi Tu puoi bere Puoi fumare Puoi dormire Pett'anni Piaggi sul sotterra Nel vagone D'Avigiana Tantelia Camatura Singapura Singapore Coppe Bú 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 E la del vagone, come con te con noi, su non c'era già l'inferno, e dentro si è il cappello, giù del monte sotto verso la discesa, e dentro si è il cappello, giù del monte sotto verso la discesa, e dentro si è il cappello, giù del monte sotto verso la discesa, e dentro si è il cappello, giù del monte sotto verso la discesa, e dentro si è il cappello, giù del monte sotto verso la discesa, Grazie.